Questo chiaramente valeranno, un saluto particolare, chiaramente un pregio di notarlo al tavolo della Presidenza. Io voglio semplicemente dare un messaggio ai ragazzi, il riferimento proprio nel rendendo l'articolo 21 della Costituzione, perché noi siamo liberi di esprimerci, voi avete il diritto di essere informati e avete comunque il diritto e il dovere di informare. Ok, pertanto siate attivi, cittadini attivi e pronti oggi per essere per i cittadini attivi e globali domani. Grazie.